Con una coratella aquilana in agrodolce e ravioli di coregone, Letizia Cucchiella, chef aquilana, si è aggiudicata alla prima manche di Cuochi d'Italia. La trasmissione condotta da Alessandro Borghese in onda sulla 8. La Lady Chef ha partecipato in trasmissione in rappresentanza dell'Abruzzo, confrontandosi con il Piemonte. Una piccola folla di amici e conoscenti si è riunita davanti alla rosticceria della Lady Chef per guardare insieme la trasmissione e approfittare per esprimere anche un po' di sana abruzzesità. Le donne abruzzese sono portatrici sane di grandissima cucina. Immancabile poi l'assaggio del piatto vincente. Giusti sapori, giusti ingredienti, leggermente piccante ma non troppo, quindi ottima. È più buona di quella che fa mamma. Non si può dire a mamma. Grazie.